Chi e per quale motivo ha inviato due proiettili al sindaco di Roscigno Pino Palmieri? Questa la domanda alla quale stanno cercando di dare una risposta ai carabinieri della compagnia di sala Consilina impegnati nelle indagini per cercare di risalire all'identità dell'autore del grave gesto intimidatorio. Palmieri nei giorni scorsi ha trovato nella cassetta della posta della sua abitazione una busta con due proiettili. Gli inquirenti indagano non soltanto sull'attività amministrativa del primo cittadino ma anche su quella lavorativa e politica. Palmieri oltre a essere sindaco è anche un maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a Roma e prima di indossare la fascia tricolore è stato consigliere regionale del Lazio nella lista civica che sosteneva Renata Polverini. La minaccia di morte potrebbe essere legata alla sua attività di sindaco ma anche a quella di appartenente alle fiamme gialle o di esponente della Rega che nell'ultima campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo lo ha visto impegnato con il partito di Matteo Salvini. Nelle ultime ore sono stati centinaia gli attestati di solidarietà nei suoi confronti da parte di tantissime persone comuni e da rappresentanti delle istituzioni. Il primo è stato Michele Albanese, direttore generale della Banca Montepruno, istituto di credito cooperativo che è nato proprio a Roscigno. Esprimo la mia solidarietà a Pino Palmieri, ha dichiarato Albanese, quello che è accaduto è un fatto gravissimo che deve essere motivo di riflessione ed uno sprone ad impegnarci affinché non si verifichino più episodi del genere. Un atto intimidatorio prosegue Albanese grave che è sintomo della crisi che stiamo vivendo nei nostri territori dove, come sosteneva il filosofo Hobbes, l'uomo rischia di diventare lupo per l'altro uomo. A condannare duramente il gesto è stato anche Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento e sindaco di Sassano. Pino Palmieri ha detto che Pellegrino è un amministratore onesto ed è gravissimo quello che è accaduto, sono certo che non si lascerà intimidire. A far da eco alle parole di Pellegrino quelle di Raffaele Accetta, presidente della comunità montana Vallo di Diano e sindaco di Monte San Giacomo, che tra l'altro negli anni scorsi è stato anche lui vittima di minacce. A Pino va tutta la mia solidarietà, ha detto Accetta, per questo ignobile tentativo intimidatorio. Anche io qualche anno fa sono stato vittima di un episodio simile, con scritte di morte e colpi di fucile scaricati su una tabella del parco. Sono sicuro, ha concluso Accetta, che non saranno questi balordi affermare il nostro impegno a favore della legalità e dello sviluppo dei nostri territori.